Mai come quando si soffre la parola di Dio ci aiuta a leggere quella sofferenza in una maniera completamente diversa. Noi che siamo abituati molto spesso ad essere eccessivamente intellettuali, a ragionare, a prenderci la teologia della parola di Dio e a capirla in astratto. Quando una persona soffre o si trova in difficoltà non si accontenta più dei ragionamenti, dei discorsi, vuole capire se quello che sta ascoltando gli serve, cioè è utile per la sua vita, se gli serve ad andare avanti, a prendere il respiro, ad affrontare le cose difficili che sta affrontando. Questo è il motivo per cui molto spesso è la vita la grande esegesi della parola di Dio, cioè sono le circostanze della vita che ci aiutano a capire fino in fondo che cose il Signore ci vuole dire attraverso la parola di Dio. E oggi la provvidenza mette davanti a noi in questa terza domenica di Coresima tanta parola di Dio che spero possa aiutarci a gettare un po' di luce nella confusione, nelle domande, nello smarrimento che tanti di noi stanno vivendo in questo momento. Sembra fatta apposta per noi innanzitutto la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo. Il popolo soffriva, dice questa parola, il popolo soffriva la sede per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse, perché? Questo è l'atteggiamento più umano che tutti ci portiamo addosso. La sofferenza molto spesso trasforma la nostra preghiera in mormorazione. Cioè la nostra preghiera è popolata da tanti perché. Perché soffriamo? Perché il Signore permette questa sofferenza? Perché ci ha condotti nel deserto? Perché ci ha tolto l'acqua? Perché ci ha fatto vivere una liberazione e poi ci ha fatto sperimentare invece questa prova? Non dobbiamo vergognarci se in questo momento le nostre preghiere assomigliano di più a mormorazioni che ha dati di fede. Anzi forse la più grande umiltà è accettare che la prima maniera che noi abbiamo di pregare è avere la sincerità di rivolgerci a Dio con lo stesso atteggiamento, con lo stesso cuore di Israele che non riesce ad avere fede, che è arrabbiato, che è confuso, che è impaurito. E tutti noi sappiamo che quando una persona è impaurita, è arrabbiata e soffre, molto spesso dice cose che non pensa, perché è preso dal panico, perché quella paura suggerisce lui cose che non vorrebbe mai dire quando è in pace, quando riflette, quando ha fede, quando ha fiducia. Eppure tutti noi dobbiamo accettare che innanzitutto perché? Perché perdiamo i nostri familiari? Oggi sentivo un amico medico di Bergamo e mi diceva che molte persone lì non riescono più a vedere i loro familiari, li vedono uscire da casa e poi muoiono in ospedale e non possono più vederli, chissà quando potranno pregare su una tomba di questi loro parenti, di questi loro amici. Anche noi siamo assetati, anche noi soffriamo. Tanta gente soffre, si sente sola e dice perché. E ci troviamo come davanti un muro, esattamente come il popolo di Israele, che si trova davanti all'Oreb come un vicolo cieco. Quella roccia per loro è un vicolo cieco, quella roccia occlude la loro speranza. Eppure Dio suggerisce a Mosè che cosa fare? Dice di percuotere quella roccia, di percuotere quel muro e da quella roccia, da quel muro sgorga acqua. Vedete fratelli, questo è il momento in cui noi dobbiamo domandarci non se è giusto o no se stiamo soffrendo, ma se Dio è capace di far scaturire acqua da ciò che ci fa soffrire. Cioè se Dio è capace di far scaturire speranza di dove noi più sperimentiamo la nostra sofferenza, la nostra disperazione. Avere fede non significa negare che stiamo vivendo un momento difficile. Avere fede non significa giustificare Dio e dire ah ma Dio avrà un progetto, una sua volontà, Dio ci sta comendo, Dio sta facendo questo, quest'altro. Più che metterci dalla parte di Dio dobbiamo domandarci con che fede noi crediamo che Lui è il nostro Padre proprio in questo momento in difficoltà. E che la fede suggerisce a ciascuno di noi che l'opera più grande di Dio è saper trasformare ciò che ci fa soffrire in ciò che invece può trasmetterci un significato molto più profondo della vita. Forse dovremmo passare questi giorni non a convincere Dio ad allontanare questo castigo, questa epidemia, questa pandemia. È una visione troppo pagana pensare che dobbiamo convincere Dio di non farci soffrire o di salvare le persone che amiamo. Dio non ha bisogno di essere convinto, Dio è dalla nostra parte. Noi cristiani lo sappiamo bene perché sappiamo che Dio è così tanto dalla nostra parte, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura della lettera ai Romani, che ha mandato suo figlio a giustificarci, a prendere su di sé la nostra debolezza, la nostra sofferenza. Non dobbiamo usare la nostra preghiera per convincere Dio, ma per convertire noi stessi, cioè per cambiare forse noi la prospettiva, per comprendere la vita in una maniera meno superficiale di come noi la stiamo forse comprendendo fino adesso. Perché quando le cose vanno bene, quando tu hai la salute, l'intelligenza, quando il mondo gira dal verso giusto, la tentazione è quella di pensare di non aver bisogno di nessuno, di non aver bisogno degli altri, che bastiamo a noi stessi, di non aver bisogno nemmeno di Dio. E quando una persona fa meno di Dio è come se stesse dicendo a se stesso che non ha bisogno di nessun senso, l'importante è che lui funziona, l'importante è che lui cade in piedi. E questa è la grande menzogna che forse noi siamo chiamati a convertire, a cambiare, a leggerla in una maniera completamente diversa, esattamente come capita a questa donna, protagonista speciale del Vangelo di Giovanni, questa lunga pagina del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, la storia della Samaritana. La cosa che mi colpiva oggi mentre pregavo davanti a questo Vangelo, pensando a che cosa dire durante questa celebrazione, è innanzitutto un dettaglio che forse passa in secondo ordine, perché tutti siamo presi dai grandi discorsi che Gesù fa sull'acqua, sull'acqua di vita eterna, noi che saremo trasformati in sorgente di acqua, ma tutto il Vangelo inizia con questa annotazione, Gesù affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo a mezzogiorno. Gesù soffre la sede. Credo che questa sia la prima vera grande buona notizia del Vangelo di oggi. Gesù soffre la nostra stessa sofferenza, lui sa che cosa significa quello che prova una persona. L'incarnazione a questo ci dimostra che Dio non vede la nostra sofferenza da fuori, non la guarda dai cieli. Ha mandato suo figlio a sentire su di sé, a provare su di sé la nostra lebolezza, la nostra fragilità, la nostra sofferenza. E se in questo momento noi soffriamo Gesù ha la stessa stanchezza, la stessa sede, la stessa sofferenza. Questa cosa non ci fa sentire soli ed è il primo vero grande miracolo del cristianesimo. E sapere che quando noi non abbiamo nemmeno più preghiere, nemmeno più parole per spiegare quello che ci portiamo nel cuore, e a volte ci sentiamo soli, aggosciati, smarriti, Gesù sa quella sofferenza, Gesù conosce quella aggoscia, Gesù conosce quello smarrimento, lui sente su di sé quello che noi sentiamo. Non dobbiamo mai dimenticare questa verità di fondo. Gesù conosce da dentro quello che vive l'uomo e anche quello che noi stiamo vivendo in questo istante. Ed è paradossale che lui, che è Dio, domanda davvero a una donna, che paradossalmente è anche pagana, fuori dalla cerchia del popolo di Israele. Gesù prega e prega ciascuno di noi. Mi piace pensare che in questo momento Gesù sta pregando nelle persone che soffrono, sta pregando di essere aiutato e tanti medici, tanti infermieri, tante persone di buona volontà stanno rispondendo alla preghiera di Gesù che soffre in questi nostri fratelli e in queste nostre sorelle. Gesù prega e poi apre gli occhi e il cuore a una consapevolezza che questa donna non ha e credo che sia la grande lezione che tutti noi dobbiamo imparare. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, chiede questa donna, che sono una samaritana? E Gesù dà una chiave di lettura, che non dobbiamo avere paura come cristiani di dire ad alta voce. Dice Gesù, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice darmi da bere, tu avresti chiesto a lui e Degli ti avrebbe dato acqua viva. Quanti nostri fratelli e quante nostre sorelle e forse anche noi non conosciamo ancora questo dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, se tu avessi fede, se tu avessi il dono della fede, tu smetteresti di fare queste domande, di fare l'autopsia della realtà, domanderesti tu da bere a lui. Questo è il momento in cui chi non ha fede deve avere l'unità di domandare il dono della fede. E noi che abbiamo la nostra fede, che è forse una fede vacillante, dobbiamo chiedere che il Signore aumenti la nostra fede. Senza il dono della fede, senza questo dono di Dio, è difficile che noi copertiamo il nostro sguardo, è difficile che noi cominciamo a capire fino in fondo perché stiamo vivendo questo, ma soprattutto qual è la maniera migliore di vivere quello che noi stiamo vivendo. Perché in fin dei conti la fede più che rispondere a perché ci sta succedendo questo, ci suggerisce il come giusto vivere quello che stiamo vivendo, come giusto. Perché il significato di quello che stiamo vivendo lo capiremo dopo, lo capiremo alla fine di questa storia. Quando guardandoci indietro rileggeremo in maniera sapienziale anche questa prova, anche questa sofferenza. E poi un'ultima suggestione, ce ne sarebbero tantissime nel Vangelo di oggi, ma pensando a tanti messaggi che ho ricevuto oggi di sofferenza, perché non possiamo pregare nelle nostre chiese? Perché non possiamo celebrare l'Eucaristia? Perché non possiamo accostarci al sacramento della comunione? Innanzitutto mi venivano in mente tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle perseguitati in tante parti del mondo, che molto spesso a causa dell'odio, della guerra, delle sofferenze, delle persecuzioni, non riescono a celebrare l'Eucaristia. E anche loro vivono questa sofferenza e noi in un certo senso in questo periodo li stiamo capendo di più, perché stiamo sperimentando anche noi questo digiuno sacramentale, questo digiuno eucaristico. Ma non dobbiamo lasciarci prendere dall'idea di fondo che c'è un luogo dove le preghiere valgono di più e un luogo dove le preghiere valgono di meno. È la grande domanda di questa donna che rivolge a Gesù appena si sente tanata nella sua verità. Non hai il tuo marito perché l'uomo che è accanto non è il tuo marito, tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è il tuo marito. In questo è detto il vero, dice Gesù. Questa donna quando si sente letta con verità da Gesù dice questo. Signore, visto che tu sei un profeta, spiegaci. I nostri padri hanno adorato su questo monte, hanno pregato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme che bisogna pregare. Qual è il luogo dove si prega? A casa nostra? In chiesa? Allora, che senso andare in chiesa se possiamo pregare sempre a casa nostra? O che senso ha pregare a casa nostra quando invece possiamo pregare in chiesa? Qual è il luogo giusto? Qual è la geografia giusta di dove pregare? Gesù spiega in maniera profonda attraverso questo Vangelo qual è la geografia vera della preghiera e dice, credi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre perché voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, ma viene l'ora ed è questa, dice Gesù, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. in un articolo del Catechismo lo si diceva in maniera così semplice e diretta nel Catechismo di San Pio X, dove è Dio? Si risponde in questo modo, Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Allora voglio dire a ciascuno di voi, cari fratelli e care sorelle, non importa dove vi trovate, non siete lontani dal Signore, non importa se siete a casa, se siete in un ospedale, non importa se non potete uscire, non importa se vi sentite prigionieri, Dio è con voi, Dio è lì e nessuno potrà mai separarci da Cristo, nessuno potrà mai far venire meno questa comunione profonda. Non c'è più un monte o Gerusalemme, Cristo ha creato un profondissimo wifi tra di noi, una profondissima comunione che non può essere rotta da nessuna circostanza. Questo è il tempo in cui dobbiamo crescere in questa consapevolezza e ovunque ci troviamo dobbiamo ricordarci che i veri adoratori sanno adorare in spirito e verità e Gesù ci ha dato questo spirito e questa verità. E vi sia di consolazione, ma una consolazione vera e profonda, quello che sto per dirvi. Ogni giorno noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia e la celebriamo non per noi stessi, ma per il popolo santo di Dio. E anche se voi non potete essere nei banchi, non potete rispondere, anche se fisicamente non siete presenti, ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia la offriamo per voi, con voi, in voi. Anche noi prendiamo la vostra sofferenza, il vostro quotidiano, le vostre domande e le portiamo sull'altare perché diventino il corpo e il santo di Cristo, diventino redenzione. Non siamo soli. Da quando Cristo è venuto al mondo nessuno è più solo. Possiamo essere tribolati, possiamo essere nella sofferenza, ma non siamo fondamentalmente indeschiacciati, né siamo alla fine. Siamo semplicemente in un momento decisivo della nostra vita in cui dobbiamo domandarci che cos'è l'essenziale. Dobbiamo tornare ad aggrapparci con tutto noi stessi a questo essenziale. Amen.